Nel centro di San Benedetto del Tronto sorge l'hotel Calabresi, a un passo dalla splendida spiaggia raggiungibile passando nel cuore verde della città, in un'oasi di palme lussureggianti Le camere, confortevoli e tutte con servizi autonomi, sono dotate di aria condizionata, frigo bar, cassaforte, televisione e telefono L'hotel offre una cucina di pesce fresco e carne con piatti tipici della tradizione locale e specialità internazionali L'hotel Calabresi è anche conference center con due sale per congressi e meeting fino a 300 posti Propone servizi di segreteria organizzativa, ufficio stampa, transfer ed escursioni, telefax e fotocopie, servizi fotografici, traduzione simultanea Gli spazi sono attrezzati con moderni impianti audio-video e sono provvisti di lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, videoproiezione, diaproiezione, schermo a scomparsa e maxischermo, radiomicrofono, penna laser, ricezione via satellite per teleconferenze A disposizione degli ospiti della struttura e un ampio parcheggio privato